E bentornati amici ad una nuova puntata del tutorial di Raft. Quest'oggi vediamo come costruire e soprattutto come collocare il ricevitore con antenna e ci servirà come radar. Allora come potete vedere per fare un ricevitore servono assi plastica, schede elettroniche, cardini, antenna, schede elettroniche a volte e rottami. Niente di che, ormai sappiamo come fare, minerali, facciamo le schede eccetera eccetera. E andremo a costruire un ricevitore, tre antenne, attenzione, e poi ci serve anche una batteria. E la batteria è... dove sta? Io mi perdo sempre ogni volta. Eccola qui. L'ingotto di rame, rottami e plastica. Bene, allora, di batterie dovremo farne diverse, anche perché poi ci serviranno, ma attenzione, perché adesso vi evito tutto il casino che ho dovuto fare io per riuscire a collocare bene questo benedetto ricevitore. Allora, proverete prima o poi a farlo qui al piano base, vi dirà altitudine errata. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collocarlo al primo piano di un qualcosa, di una piattaforma, ed eccola qua, io l'ho messo qua sul tetto. Ora ho risolto anche il problema del tetto qua, che non potevo costruire. In realtà il fatto è che se non c'è una parete, non potrete costruire nel vuoto, a meno che voi non piaziate con questo un pilastro in legno. Vedete? Facendo un pilastro potrete costruire, come nella realtà, altre piattaforme qua sopra. Quindi, cosa ho fatto? Ho costruito il ricevitore qui, ho piazzato la batteria qui, e poi bisogna piazzare tre antenne. Ora, vi darà l'errore sia se la piazzate qui troppo vicino, sia se piazzate le antenne troppo vicine fra loro. Quindi, guardate, dovete piazzarne una qui, una nel mezzo e una un po' più in là. Non devono essere troppo vicine, quindi fate un po' di spazio al piano superiore, con le costruzioni, e riuscirete a piazzare tutte le antenne. Se poi la posizione non è corretta, fate Rimuovi X e la riandate a collocare semplicemente. Questi cavi andranno in automatico ad attaccarsi al ricevitore, non dovrete fare niente, quindi non è complicato. Una volta fatto, possiamo attivarlo. E questo è il risultato. Possiamo adesso navigare verso questi obiettivi. Ora, vi consiglio di tenere spento quando non è il caso di usarlo, poiché consuma batteria, e appunto ci serviranno tante batterie. Questo ci servirà anche per raggiungere un obiettivo particolare, che non vi dirò nulla, comunque andremo poi avanti verso la trama per andare a concludere il gioco. Però, allora, altre cose che dobbiamo fare prima di partire per la nostra avventura è... Allora, ho catturato questa specie di animale che non so che cos'è, questo. Lo troviamo sulle isole, sempre con il lanciarete e il retino. E attenzione perché se sbagliate il colpo non potrete recuperare la corda e la rete, quindi dovrete di nuovo andare a ricacciare il pesce palla, andare a prendere la melma, esplosive, eccetera, eccetera. Ora, questo qui ogni tanto lascia le uova. Quindi sono andato poi nel tavolo da ricerca con l'uovo e ho sbloccato anche un altro progetto. Ora, quindi cosa ci serve per il prossimo video? Andremo a cacciare la lana e ci servirà il lama, appunto, quindi non sta su quest'isola, guardate che isola però enorme che è. Dovremmo andare a cercarlo da un'altra parte e poi cercheremo i favi con le api, in modo da catturare sia le api che prendere i favi e andremo a sbloccare quindi tutti gli ultimi progetti. Ma il prossimo passo è quello di andare a cercare dei lama per poter poi espandere il nostro inventario. E finalmente, e questo è quanto. Credo di aver detto tutto, non vi ho fatto vedere fisicamente come ho costruito l'antenna ma è facilissimo, ormai sapete anche farlo. L'importante è farla a un piano superiore, non importa secondo, basta il primo. Anzi, al secondo mi ha dato errore se non sbaglio, avevo provato a metterla qui, mi diceva sempre errore altitudine, deve stare proprio al primo piano. Fine. Usate le scale così non vi sbagliate, la misura è quella corretta e fate la costruzione. Tanto se avete dei problemi andate indietro di qualche tutorial e vedrete come costruire edifici, vi ho mostrato come usare il martello e come fare questo. In più però ho imparato che per costruire sul vuoto servono dei pilastri di legno. Altra cosa, e poi ne parleremo sul video dedicato alle coltivazioni, gli animali hanno bisogno di questo vaso apposito di coltivazione, questo vaso d'erba, in modo da poter avere erba per poter poi darvi quello che devono darvi. Che so, uova, lana o in questo caso il latte. Quindi costruite, come ho fatto io magari dei recinti, e dentro assicuratevi di metterci questi. Ha bisogno di acqua dolce, se in questo momento non vi va, non ce l'avete, vi basta aspettare che piova e per questo consiglio di lasciare il tetto aperto, così può pioverci qui. E può anche ridarci l'acqua. Altra cosa, il depuratore avanzato che ho costruito, finalmente, finalmente, guardate, non c'è bisogno di carburante, quindi di legna sprecate, questo qui basta riempirlo e versarlo qui. Guardate, prendo e verso, prendo e verso. E pian piano andrà a filtrare l'acqua, e avremo tanta acqua da bere. Vi consiglio di tenerlo vicino all'acqua, così fate in due secondi quella tazza a trascinare. Altra novità, ho costruito questo per cucinare, ma ancora non sono riuscito a fare niente, nonostante abbia attaccato qui le ricette che ho trovato in giro, però non ho ancora capito come fare. Nel caso ci riuscissi, ve lo farò sapere. E questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.